Massimiliano non accetta di perdere a questo punto da nessun avversario perché li ha distrutti tutti tutti ed è il medaglia d'oro Eccolo qui le ultime bracciate dalle Olimpiadi di Sidri all'Isola dei Famosi 2021 Massimiliano Rosolino Massimiliano benvenuto Massimiliano benvenuto all'Isola dei Famosi come stai? Grazie benissimo Ila ma c'hai il fiatone? No si Hai fatto due bracciate Massimiliano No sono entrato nel personaggio lo vuoi capire no fa più scena Ah ok ok senti Massimiliano allora tua moglie balla ai latinoamericani e ti ho messo lì Insomma è l'Honduras che è lì Poi tu nuoti e sei in mezzo al mare tu dimmi come ti ho apparecchiato st'isoletta Dimmi se non sono un'amica Hai ragione ci contavo però eh Perché un po' il ritmo un po' il mare insomma mi sono dato mi sono anche dato da fare lo sai? In che senso? Nel senso che in questi giorni comunque mi sono tenuto in forma no? Ho fatto due bracciate ho già visto esatto ho già visto come sono le isole Sono meravigliose Ilari ok? Anzi ti invitiamo già sin da adesso Però una cosa un appunto dovevo fare Ilari Le condizioni che troveranno i nostri naufraghi sono estreme Quest'anno più che mai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti